Ciao a tutti, oggi vi mostrerò un'altra cosa importantissima da fare su Telegram, ovvero iscriversi ai gruppi per poter partecipare o anche solo leggere discussioni, temi interessanti, offerte e quant'altro. Allora, una volta che conoscete il nome del gruppo a cui volete iscrivervi, oppure l'argomento, basta che utilizzate la ricerca, usando la lente in alto a destra. Allora, io ad esempio voglio fare, so già come si chiama più o meno il gruppo, che è GTA Channel di un videogioco, infatti ho anche sbagliato a scrivere, eccolo qua, si fa la ricerca, si vede i risultati, si clicca sul risultato desiderato e si entrerà nel gruppo più o meno, poi dipende dall'impostazione del gruppo cosa vedrete cliccandoci sopra. Cliccate semplicemente su unisciti ed ecco che siete dentro il gruppo, scrollando con il dito sopra e sotto potrete vedere tutti i post e cliccandoci sopra, qui ho cliccato su un link, cliccando su ad esempio sui commenti potrete vedere cosa ha scritto la gente e anche commentare. Ciao mondo, adesso non lo invio perché non voglio presentarvi, potete usare ovviamente le faccine e le cose che il creatore del gruppo vi mette a disposizione. Niente, semplicemente è così, molto semplice e si possono riattivare le notifiche per essere allertati sempre su ciò che accade nei vari gruppi. E' tutto qua, presto farò un altro video delicato, forse. Ciao! Ciao!